Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Vittorio Sgarbi si schiara dalla parte di Memo Remigi, che è stato sospeso dal programma Oggi e Un Altro Giorno su Rai 1, dopo l'accusa di aver palpeggiato la collega Jessica Morlacchi. Quando sei vecchio non hai più i riflessi pronti. Poi a quell'età se tocchi il culo di una ragazza è come se toccassi la sedia, un'automobile, dice il critico d'arte in una intervista a momado.com. Insomma, sostiene Sgarbi, a quell'età uno non si eccita di certo. Sicuramente non è una molestia, ma Memo ha oltre 80 anni, 84 per la precisione. Insomma è talmente vecchio che non è escluso, si è scesa la mano in modo involontario, ipotizza Vittorio Sgarbi. D'altro canto Memo Remigi in questi giorni si era difeso commentando. È stata una pacchettina come segno portafortuna, era successo altre volte. Un conto è palpare, altro è il buffettino. Non è una molestia, ha aggiunto Remigi. Dopo la palpata ricevuta da Memo Remigi nel programma Domani è un altro giorno, Jessica Morlacchi ha pubblicato su Instagram un post dove esprime tutta la sua indignazione. Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena. Ho provato un disagio enorme, ma come si vede l'imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita. A tutti, per favore, chiedo ora silenzio e ringrazio la RAI per avermi protetta e sostenuta. Cosa ne pensate di quanto accaduto? Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.